In occasione dell'Arrest Expo 2018 un'occasione di approfondimento per le imprese Welfare e Industria 4.0. Quali scenari e opportunità? L'azienda 4.0 è una condizione che consente alle aziende di ottenere dei benefici estremamente importanti. Ci sono tre modi per ottenere questi benefici. Una di questi è la legge 190 che è quella a mio parere decisamente molto più favorevole rispetto alle due condizioni che sono il superammortamento e l'iperammortamento. Certo è che l'azienda 4.0 ha effettivamente dato un incremento al mondo manifatturiero perché abbiamo notato dei notevoli interessi agli investimenti, cosa che fino a due anni fa erano decisamente soppiti. Il Welfare aziendale è uno strumento potentissimo di relazioni industriali, di relazioni menageriali. È uno strumento veramente importante per le politiche retributive delle aziende e consente ai lavoratori di poter avere del denaro con delle condizioni economiche di vantaggio indiscutibili. Consigli per gli imprenditori, consigli per i lavoratori? Il consiglio per gli imprenditori è quello di prendere in considerazione di implementare un piano welfare all'interno delle aziende per due ordini dei fattori. Uno perché, come dicevo prima, è uno strumento importante di relazione con i confronti dei dipendenti, crea ancora maggiore empatia in azienda e inoltre consente, grazie a quanto prevista la normativa, dei importanti vantaggi contributivi e fiscali. Per il lavoratore perché è importante? Perché a parità di denaro si riesce ad ottenere dei vantaggi economici importanti e utilizzare questo denaro per gli atti della vita quotidiana. Quindi dalle spese per la cura dei figli, per l'istruzione dei figli, alle spese per andare al cinema piuttosto che comprarsi un buono su internet.